Ciao a tutti! Continuiamo con l'esplorazione delle proprietà di Particular. Oggi introduciamo i parametri che gestiscono le forze naturali che possono intervenire sulle particelle e vedremo le forze più importanti, cioè la forza di gravità, il vento, la resistenza dell'aria, la turbolenza e così via. E questi parametri li troviamo nella sezione Physics di Particular. Eccola qui. E poi dopo averli passati rapidamente in rassegna li metteremo in pratica costruendo una semplice esplosione. E già che ci siamo quindi vediamola subito. Bene, come avete visto è molto semplice. È composta da due parti. Una parte centrale che è la vera e propria detonazione e tutto intorno una esplosione di detriti. Bene, incominciamo. Innanzitutto resettiamo l'effetto cliccando sul pulsante Reset azzurro qua su in cima e poi eliminiamo dalla composizione tutte le particelle che abbiamo usato nella lezione precedente. Quindi la farfalla, le scintille, i frutti e le forme. Li seleziono e li cancello. Bene. E già che ci siamo prima di cominciare con i parametri di Physics allunghiamo la vita dalle particelle in modo che non spariscano dopo tre secondi. Quindi andiamo nella sezione Particle e aumentiamo Life più o meno intorno ai 10 secondi che è la durata della composizione. E ingrandiamo anche un poco la dimensione delle particelle in modo che siano visibili meglio. Benissimo così. Chiudiamo la sezione Particle e concentriamoci sulla sezione Physics. Il primo parametro che incontriamo è Gravity che è appunto la forza di gravità che al momento è impostata a zero. E se l'aumentiamo per esempio intorno ai 100 e facciamo la preview, come vedete alla velocità iniziale delle particelle si aggiunge una accelerazione verso il basso. E naturalmente più questo numero è alto e più la forza di attrazione verso il basso naturalmente aumenta. Bene. E se alla gravità invece diamo un valore negativo, per esempio meno 100, allora le particelle vengono accelerate verso l'alto in questo modo. E questa impostazione naturalmente andrebbe bene per delle particelle più leggere dell'aria, come il fumo per esempio. Bene. Riportiamo il valore a zero. Bene. Passiamo al parametro successivo Physics Time Factor. Questo parametro serve a velocizzare o rallentare tutto il sistema di particelle. Cioè se impostiamo questo valore maggiore di 1, per esempio intorno ai 4, allora come vedete tutto quanto il sistema di particelle si velocizza. Se invece abbassiamo Time Factor a un valore compreso tra 0 e 1, per esempio così, allora tutto quanto il sistema, come vedete, rallenta. E addirittura se portiamo il valore a 0, tutto si congela e si immobilizza, come vedete. Diciamo che questo parametro può diventare interessante soltanto se viene animato. Facciamo subito un esempio. Innanzitutto riportiamolo al valore originale che è 1, che indica appunto la velocità normale del sistema. E vogliamo, per esempio, che per i primi 3 secondi le particelle si muovano normalmente e poi improvvisamente si blocchino e si congenono nella posizione che hanno raggiunto. Per far questo basta animare appunto Time Factor da 1 a 0. Proviamo. Innanzitutto facciamo doppio clic sul parametro Time Factor in modo che sia visibile qui nella Timeline, poi portiamo il cursore a circa 3 secondi nella Timeline e accendiamo l'orologio di Physics Time Factor in modo che abbiamo il primo keyframe. Poi avanziamo qualche fotogramma, per esempio qui, e portiamo Time Factor a 0. E quindi adesso se facciamo una preview, come vedete, le particelle si muovono a velocità normale per 3 secondi e poi dopo si immobilizzano. E addirittura se il secondo keyframe, anziché impostarlo a 0, lo impostiamo a un valore negativo, a meno 1, cioè un valore negativo, da questo momento in poi le particelle si muoveranno a retroso. Proviamo. Per i primi 3 secondi si comportano normalmente e poi dal secondo keyframe in avanti tornano indietro. Hanno un'animazione al contrario. Benissimo. E quindi con Time Factor abbiamo visto che è possibile velocizzare, rallentare, congelare o addirittura animare al contrario tutte le particelle. Adesso però spegniamo l'orologio di Physics Time Factor e lasciamo il suo valore originale a 1. Bene, proseguiamo. Andiamo adesso a vedere i parametri della sezione Air. Il primo che incontriamo è Air Resistance, cioè la resistenza dell'aria. Quella forza che si oppone al movimento iniziale delle particelle. Però per apprezzarla un po' meglio io direi di aumentare la velocità iniziale delle particelle. Quindi torniamo un attimo nella sezione Emitter e aumentiamo il parametro Velocity. Io direi intorno ai 1000, per esempio. Bene, quindi se noi aumentiamo questo parametro che adesso è a 0, per esempio lo portiamo intorno ai 2 e facciamo partire la preview. Come vedete le particelle partono velocemente ma vengono frenate subito dalla resistenza dell'aria. Naturalmente se diminuiamo questo valore le particelle vengono frenate di meno. Bene, riportiamo Air Resistance a 0. Il parametro successivo è Spin Amplitude, che è una specie di vibrazione dalla posizione che si aggiunge al movimento di ogni particella. E però per vederla meglio in azione direi in questo caso prima di azzerare la velocità iniziale delle particelle e di distribuirle un poco meglio nello spazio. Per cui torniamo di nuovo nella sezione Emitter. In questo caso, come abbiamo detto, azzeriamo la velocità. Facciamo nascere le particelle all'interno di un box, quindi al parametro Emitter Type scegliamo Box al posto di Point. Aumentiamo un po' la dimensione di questo spazio aumentando il parametro Emitter Size, per esempio intorno ai 1000 e facciamo sì anche che le particelle non continuino ad aumentare, ma siano di una quantità fissa. Quindi impostiamo il primissimo parametro, cioè Emitter Behavior, anziché su Continuous, su Explode. E questo fa sì che le particelle nascano soltanto al primo frame e poi non ne nascano più. Chiaramente, come vedete, adesso di particelle ne rimangono molto poche, quindi dobbiamo anche aumentare il parametro Particle Second, particelle al secondo, quindi lo portiamo io direi intorno ai 1000. Quindi abbiamo questa quantità di particelle distribuite nello spazio e immobili. Bene, torniamo al parametro Spin Amplitude e aumentiamo il suo valore, per esempio a 100. E così facendo, come vedete, ogni particella si muove a caso intorno alla sua posizione originale. Attualmente più si aumenta questo valore e più le particelle si allontanano dalla loro posizione originale. Il parametro successivo invece Spin Frequency gestisce la velocità con cui queste particelle si agitano. Se vedete adesso le particelle si agitano molto più rapidamente rispetto a prima. Bene, il parametro successivo Fade In indica il tempo che le particelle ci impiegano ad agitarsi dopo che sono nate. In questo momento è impostato A1, il che significa che le particelle ci mettono un secondo dopo che sono nate ad agitarsi in questo modo qua. Se per esempio noi aumentiamo questo valore A3, adesso le particelle ci impiegheranno tre secondi prima di agitarsi come prima. Facciamo una preview. Ora le particelle ci impiegano tre secondi prima di raggiungere la loro velocità massima. E se invece questo valore lo azzeriamo del tutto, in questo modo le particelle come vedete si agitano immediatamente alla velocità massima senza nessun periodo di transizione. Bene, riazzeriamo di nuovo il parametro Spin Amplitude in modo che le particelle non siano più agitate e vediamo i tre parametri successivi che sono Wind X, Y e Z che servono appunto a impostare la direzione del vento. Se per esempio aumentiamo Wind X a 3-400 per esempio, così facendo come vedete le particelle vengono trascinate verso destra a una velocità di 400 pixel al secondo. Naturalmente se il valore è negativo, le particelle vengono trascinate verso sinistra. E lo stesso ragionamento lo possiamo fare anche per gli altri due valori. Se aumentiamo Wind Y, le particelle vengono trascinate verso il basso. Se il valore invece è negativo vengono trascinate verso l'alto. E per ultimo Wind Z, se lo aumentiamo, le particelle vengono spinte verso l'infinito e se invece lo portiamo a valori negativi, le particelle vengono spostate verso di noi. Bene, riazzeriamo di nuovo questi tre valori. Ora vediamo l'ultima sezione che è Turbulence Field, cioè la turbolenza dell'aria. Apriamola. E la turbolenza può agire sia sulla dimensione sia sulla posizione delle particelle. Per esempio, se aumentiamo Affect Size, facciamo circa 200, come vedete in questo caso le particelle si dilatano e si contraggono in modo casuale. Se invece aumentiamo Affect Position, per esempio con un valore intorno ai 400, allora vedete che le particelle vengono sballottate di qua e di là dalla turbolenza dell'aria. E come si nota bene, questo risultato assomiglia molto a quello che avevamo ottenuto aumentando lo spin. Però c'è differenza tra questi due tipi di agitazione. Lo spin è un movimento generato internamente dalle particelle, mentre la turbolenza è una forza esterna che agisce in modo uniforme su tutte le particelle, un po' come se le particelle fossero immerse in un fluido che le trascina di qua e di là. E oltretutto, se clicchiamo sul pulsante Visualize Field, questo qua, è possibile addirittura visualizzare graficamente le linee delle correnti che agiscono sulle particelle. Se noi aumentiamo o diminuiamo Affect Position, adesso è più facile capire come cambia l'intensità e l'ampiezza della turbolenza nell'aria. A questo proposito, tutti i parametri successivi, da Scale in giù, possono modificare ulteriormente l'aspetto di queste correnti. Adesso però non stiamo qui a vederli tutti quanti uno per uno. Limitiamoci soltanto ad osservare il primo parametro, Scale, che è sicuramente il più importante di tutti. Se noi lo aumentiamo, le curve delle correnti si contorcono sempre di più e le particelle si agitano in modo sempre più disordinato. E se invece questo valore lo diminuiamo, le particelle si agitano più lentamente in modo più uniforme, come se si trovassero all'interno di un fluido molto più denso. Bene, riportiamo Scale al valore originale, che era 10, e spegniamo anche il pulsante Visualize Fields. Anche nella turbolenza dell'aria c'è un parametro Fade In Time, che indica appunto il tempo di transizione che la turbolenza ci impiega prima di agire completamente sulle particelle. Ora è impostato a 0,5, che significa mezzo secondo, e quindi la turbolenza ci impiega mezzo secondo prima di entrare in azione. Ovviamente, se aumentiamo questo valore, per esempio intorno ai 3, adesso le particelle ci impiegano 3 secondi prima di essere pienamente agitate dalla turbolenza. E se lo azzeriamo, come abbiamo fatto anche prima per lo spin, la turbolenza entra in azione immediatamente. Perfetto. Bene, ora mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato e creiamo con l'esplosione che abbiamo visto all'inizio. Innanzitutto rivediamola un attimo. Come avevamo notato all'inizio, l'esplosione è composta da due parti. C'è una parte centrale che è appunto la detonazione, che costruiamo con delle semplici particelle interne di particola di tipo cloudlet, che come vedete nascono chiare e poi si scuriscono prima di morire, come se diventassero appunto del fumo. E poi intorno, come vedete, i veri e propri detriti, che sono invece una sequenza di piccoli disegni già pronti. Quindi innanzitutto, se anche voi volete creare la stessa esplosione, dovete scaricarvi questi disegni dal link che trovate nella pagina del tutorial. Eccoli qua, sono 10 piccoli disegni di frammenti di pietra. E poi naturalmente li importate come una sequenza di immagini, in modo che poi in After Effects li avete come un unico video. E come vedete io l'ho già importato. Eccolo qua. Bene, allora iniziamo. Innanzitutto resettiamo di nuovo l'effetto. Quindi clicchiamo sul pulsante azzurro Reset qua in alto. E per iniziare creiamo la detonazione. Quindi andiamo nella sezione Emitter e come comportamento generale dell'effetto naturalmente impostiamo Particular sulla modalità Explode, visto che appunto creiamo un'esplosione. E così facendo, come al solito, dobbiamo aumentare il numero di particelle al secondo e io direi più o meno intorno alle 5.000 particelle. Eccole qua. Naturalmente dobbiamo aumentare tantissimo la velocità iniziale. Io direi intorno ai 500-600. Ecco una cosa così. Direi di aumentare anche un po' la velocità random, in modo che qualche particella sia più veloce e qualcuna un po' più lenta. Benissimo. Chiudiamo la sezione Emitter. Andiamo adesso nella sezione Physics. E innanzitutto dobbiamo far sì che le particelle, anziché allontanarsi a velocità costante, vengano frenate dalla resistenza dell'aria. Quindi andiamo al parametro AirResistance e lo aumentiamo. Io direi tra i 2 e i 3. Più o meno così. In modo appunto che le particelle rimangano nella zona dell'esplosione. E siccome si tratta di particelle di fiamme e di fumo, sono quindi più leggere dell'aria e quindi hanno bisogno anche di un po' di gravità negativa che le faccia salire verso l'alto. Quindi andiamo al parametro Gravity e scendiamo, lo portiamo a un valore negativo, più o meno così. E per rendere l'esplosione anche un po' più veloce, direi di aumentare Physics Time Factor. Più o meno 1,2, 1,3. Proviamo. Perfetto. Facciamo sì anche che vengano leggermente trascinate verso destra con un pochino di vento e che vengano anche un po' agitate dalla turbolenza dell'aria. Quindi innanzitutto aumentiamo un po' Wind X. Veramente poco, intorno ai 10, 20. Ecco così. E aumentiamo un po' anche Affect Position della sezione Turbulence Field. Un valore tra i 100 e i 200 penso che possa andare bene. Facciamo un'altra preview. Benissimo. E adesso occupiamoci dell'aspetto vero e proprio dalle particelle. Quindi andiamo in Particle. Possiamo magari diminuire leggermente la vita anziché tre secondi, la portiamo intorno ai due secondi e però aumentiamo anche Life Random, magari al massimo a 100, in modo che qualche particella viva di più e qualcuna viva di meno, in modo del tutto casuale. Poi, come tipo di particella, anziché delle semplici sfere, come abbiamo detto prima, usiamo la forma Cloudlet, cioè delle forme irregolari, ognuna diversa dall'altra. E in questo caso direi di annullare la sfumatura del bordo azzerando Cloudlet Feather. E naturalmente aumentiamo un po' la dimensione, quindi aumentiamo il parametro Size intorno ai 20-30, più o meno così. Ovviamente aumentiamo anche Size Random, in modo che ci siano particelle più grandi e più piccole, e vogliamo che le particelle cambino dimensione durante la loro vita. Quindi andiamo nella sezione Size Over Life, e dai vari preset che abbiamo, in questo caso penso che sia azzeccato il terzo preset, questo qui, in modo che le particelle nascono a grandezza zero, rapidamente raggiungono la loro massima dimensione, poi di nuovo si rimpiccioliscono. Bene. E per ultimo il colore. Vogliamo che nascano molto chiare e poi diventino rapidamente grigie, come se diventassero del fumo. Quindi, siccome vogliamo che il colore delle particelle cambi nel tempo, dobbiamo impostare il parametro Set Color alla voce Over Life. E poi andiamo nella sezione Color Over Life e impostiamo qui, in questo gradiente, i colori che le particelle assumono durante la loro vita. Magari come preset impostiamo il secondo, che ha soltanto due punti colore. Allora, cominciamo dal primo. Clicco sul primo punto colore e il primo magari lo facciamo più o meno di un giallo molto chiaro, all'incirca così. Poi dopo un po', quasi immediatamente diventino magari un po' più colorate, arancioni magari. Quindi clicchiamo sotto il gradiente in questa zona qua, all'incirca. Creiamo un secondo punto colore. Apriamo la palette. Impostiamo magari un arancione, più o meno così, particolarmente saturo. Ecco. Quindi giallo, arancione. Poi le facciamo diventare subito grigie. Quindi creiamo un altro punto colore. Un grigio medio, più o meno così, al 50%. E come ultimo colore, anziché nero come è impostato, facciamo un grigio scuro, più o meno così. Perfetto. Proviamo a rivedere. Perfetto. Benissimo. La detonazione è finita. Per completarla meglio direi di aggiungere anche un effetto di bagliore in modo da rendere più incandescenti i colori delle particelle. Quindi selezioniamo il livello. Andiamo nel menu effetti. Nella sezione stylize aggiungiamo l'effetto glow. Immediatamente le particelle diventano più incandescenti, però aggiustiamo i primi tre parametri. Direi di abbassare un po' il primo parametro, il threshold, intorno ai 40 più o meno, in modo che le particelle diventano ancora più incandescenti. Aumentiamo un po' il raggio del bagliore in modo che il bagliore si espanda tutto intorno, sopra i 300, più o meno così. Perfetto. Così va benissimo. Bene. E adesso costruiamo l'esplosione di detriti tutto intorno. Per fare questo abbiamo bisogno di un nuovo effetto particolare. Però prima di crearlo innanzitutto aggiungiamo nella timeline il video sequenza delle pietre. Eccole qua. E come sappiamo le particelle originali però vanno rese invisibili. Quindi spegniamo l'occhiolino qua sulla sinistra. Bene. Adesso creiamo un nuovo livello. Quindi layer new solid. Questo lo possiamo nominare esplosione detriti. E gli applichiamo l'effetto particolar. Quindi effect rg trapcode particolar. La prima cosa che facciamo in questo caso è sostituire le particelle con le pietre. Quindi andiamo in particle. Come tipo di particella scegliamo sprite. Poi andiamo più in basso nella sezione texture. E colleghiamo le particelle alla sequenza delle pietre. Quindi al parametro layer associamo la sequenza pietre. Eccola qua. Chiaramente le particelle sono molto piccole. Aumentiamo subito la dimensione. Io direi intorno ai 15-20. Più o meno così. Aumentiamo anche la dimensione random. In modo che ci siano pietre più piccole e pietre più grandi. Ecco fatto. Però vogliamo che ogni particella rappresenti un frame a caso della sequenza. Quindi come sappiamo nella sezione time sampling anziché avere l'impostazione random loop dobbiamo scegliere l'opzione random still frame. Cosicché ogni particella rappresenta un singolo frame. Perfetto. E adesso creiamo la vera e propria esplosione. Quindi torniamo in emitter. Impostiamo il comportamento di particola su explode. Aumentiamo ovviamente il numero di particelle. Magari meno rispetto a prima. circa 2000. Aumentiamo la velocità come prima. Più o meno intorno ai 1000. Direi che può andar bene. Perfetto. Anche un po' di velocità random. Così qualcuna è più lenta, qualcuna è più veloce. La durata delle particelle direi di lasciarla più o meno a tre secondi. Magari aumentiamo un po' la life random. ecco così. Anche in questo caso la dimensione deve cambiare. Le particelle devono ridursi durante la loro vita. Quindi nella sezione size over life dai vari preset che abbiamo. In questo caso però direi che è più appropriato il secondo preset. Questo qui in modo che le particelle nascono grandi e poi si disintegrano in questo modo qua. Bene ora andiamo ai parametri di physics e siccome si tratta di particelle pesanti abbiamo bisogno che vengano attratte verso il basso della gravità. Quindi abbiamo bisogno di una gravità positiva. Direi di aumentarla sensibilmente intorno ai 6700. Vediamo se così può andar bene. Sì perfetto. Le particelle cadono quasi subito. Benissimo. Magari aumentiamo anche un pochino la resistenza dell'aria. In questo caso magari un po' meno. Facciamo soltanto 1. E come ultima cosa magari velocizziamo un po' col tutto aumentando il time factor 1.2.1.3. Proviamo a rivedere. Perfetto. E siccome questo livello di detriti si trova sopra il livello della detonazione li vediamo davanti alla detonazione. E io quindi direi anche di duplicare questo livello di pietra e mettere una seconda copia di detriti dietro la detonazione. Quindi seleziono esplosione detriti lo duplico. CTRL D. Il duplicato lo sposto sotto il livello della detonazione. Però come vedete le due esplosioni si sovrappongono perfettamente. Cioè tutte le particelle si trovano nella stessa identica posizione della prima copia dei detriti. E per far sì che appunto le particelle si trovino in posizioni diverse rispetto alla prima copia dei detriti basta che interveniamo sul parametro random seed che si trova all'interno di emitter e gli cambiamo il valore a caso. Quindi lo aumento un poco così in modo del tutto casuale e come vedete adesso le particelle della seconda copia dei detriti si trovano in posizione completamente diverse rispetto alle particelle della prima copia. E poi siccome si trovano un poco più lontano direi anche di diminuirgli la dimensione. Quindi nella sezione Particle diminuiamo un po' la Size più o meno così. E a questo punto l'esplosione è finita. Rivediamola. Benissimo. Quindi la lezione di oggi finisce qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!